Mentre il medico studia, il malato muore. Sono passati infatti 24 giorni da quando le piogge misero in evidenza il rischio di crolli su un piccolo ponte lungo la provinciale 161 che collega Militello Rosmarino ad Alcala di Fusi. Era il pomeriggio del 5 gennaio infatti quando il terreno su cui poggia il ponte ha dato segni di cedimento, costringendo la chiusura di mezza carreggiata su una strada vitale senza alternative per chi deve raggiungere l'entroterra. Una situazione preoccupante che i tecnici della provincia hanno verificato con un sopralluogo nei giorni successivi. Da quelle verifiche però ancora non è emerso nulla, mentre le condizioni del manufatto peggiorano a vista d'occhio. Questa è la situazione che appare stamattina e non promette nulla di buono. La base si sta svuotando, indebolendo il ponte e rischiando di isolare totalmente Alcala. Una situazione che si aggiunge alle tantissime e pericolosissime frane lungo tutta la strada provinciale e che anche nell'ultimo anno hanno messo a rischio la vita di molti automobilisti. Una situazione complessa che evidenzia la fragilità di un territorio d'anni al centro dell'attenzione. Per il momento sul ponte si transita su una carreggiata, ma appare chiaro che servono interventi che vadano oltre il semplice tampone per fronteggiare l'emergenza.